Questo non è un mondo normale di Minecraft Ormai penso che l'abbiate capito tutti che i miei video sono tutti mondi strani e particolari In questo mondo infatti i minerali possono essere TNT Probabilmente vi starete chiedendo ma Kendall che cavolo vuol dire i minerali possono essere TNT? Aspettate, datemi un minuto e vi faccio vedere tutto Ovviamente iniziamo prendendo la legna così almeno posso scavarli questi minerali Mi devo fare un piccone in pietra prima di tutto Quindi aspettate, ci diamo subito una mossa e... Ecco fatto, abbiamo il piccone in pietra Stiamo prendendo già del ferro e quindi potremo potenzialmente craftare la prima TNT Ovvero la TNT di ferro Beh in realtà prima di craftare... Ah oh eh, fermo, fermo Alto là, chi va là? Ho bisogno di un altro blocco Ok grazie, via 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 via, scappa 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 Mi sta uccidendo Ok altro ferro, bene bene bene, non male Io devo fare la TNT di ferro La TNT di oro La TNT di diamante E anche la TNT di nederite Oh ma che cavolo? Ma allora, ma mi lasci stare? Ma cosa ti ho fatto? Ti ricordo qualcuno che ti bullizzava da piccolo? Prendiamo tantissima pietra così almeno ci possiamo fare la fornace Oh ancora qua eh Ma cosa sei? Ma scusa Ma sei un investigatore, mi stai cercando Bene Fantastico Nota Non entrare in caverna senza prima farti una spada Allora Facciamo così Mettiamo a cucinare il nostro ferro E adesso ovviamente ci servirà della sabbia Sapete tutti come si crafta la TNT normale no? Cioè non ve lo devo spiegare Presumo Ok Perfetto Allora c'è della sabbia qua nelle vicinanze da qualche parte? Tu sei sabbia? No Tu sei sabbia? No Tu sei sabbia? Ah ok perfetto C'è della sabbia Ta 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 Uno Due Tre Quattro E cinque Ok Ovviamente ci servirà anche della gravel Quindi il flint per poter accendere la nostra TNT Benissimo E prendiamo il nostro ferro Ottimo Quindi facciamo subito l'accendino Bene E ora devo semplicemente posizionare il ferro in questo modo La sabbia in questo modo Ed ecco qua la mia TNT di ferro Cosa farà la TNT di ferro? Non lo so sinceramente perché non l'ho testata però Però lo scopriremo molto presto Siete pronti? 3 2 1 Via Oh mamma mia Aspetta mi allontano perché io ho veramente tanta tanta paura Oh Cosa? Beh Allora con tutto questo ferro sicuramente l'elmetto ci esce Tu mi odi? No siamo amici vero? Siamo amici? Ok siamo amici Quindi Oh mamma mia quanto ferro Non ci posso credere Ci facciamo subito 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 Un altro piccone Così ne possiamo prendere tantissimo Guardate quanti blocchi di ferro mi ha regalato E in più ho fatto nascere anche un Iron Golem a quanto pare Non so a cosa mi possa servire l'Iron Golem Chissà se Tu sei il mio amico? Se ti attacco tu mi attacchi? Non lo posso attaccare È proprio il mio amico Ok allora vediamo Sponiamo un Uno zombie Oh Sì è il mio amico Mi salva la vita Fantastico Tu sei molto molto comodo Cioè non sei comodo perché sei fatto di ferro Non di cuscini Però sei comodo per proteggermi Allora ci facciamo subito un'armatura Fantastico Bene 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 Anche dei piedini ovviamente Ci servirà anche una spada Anzi facciamo così Ci facciamo direttamente Un'ascia Sì Ok Quindi adesso abbiamo L'ascia in ferro Il piccone in ferro L'armatura in ferro Ci serve del cibo a dir la verità Esiste la TNT dei polli per esempio La TNT di bella faccia? Vabbè Tanto adesso noi andiamo alla ricerca dei diamanti E per farlo Mi scaverò sotto i piedi Perché io non ho paura della lava Non ho paura di niente Avete capito? Quante possibilità ci sono Che io trovi della lava Proprio sotto i miei piedi Sono pochissime E quindi io scavo Zitto E scavo Bene Abbiamo trovato Dell'oro Possiamo fare anche la TNT di oro Chiaro Però No Non ne ho abbastanza Ne ho solo quattro pezzi Ci sarà dell'altro oro All'interno di Sì Eccolo là Perfetto Iniziamo a cucinare il nostro oro Io vado alla ricerca dei diamanti Ci sarà qualche diamante qua? No Siamo troppo in alto Devo scendere Quest'oro ci servirà ovviamente anche per la nederite Perché come vi dicevo Esiste la TNT di nederite Scava 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 Redstone Ok Non so se ci sta la TNT di redstone Azzitto E scava Oh diamante Fantastico No dai Uno solo Ehi Ma mi riservano cinque Come faccio a fare se no la TNT Porca miseria Oh Perfetto Un altro Ancora bene No dai Dai Veramente uno solo Ma cos'è Ho la sfortuna nera Minecraft Ma sei sfortunato al cento per cento Due diamanti Ma cioè guarda un po' se devo trovare due diamanti Oh Eccone altri Fantastico Uno Due Dai Tre Uh non ti bruciare Beh però ne abbiamo cinque È già abbastanza Ce la faccio a trovare anche degli smeraldi secondo voi Lapis Proviamoci Allora mettiamo a cucinare i diamanti No che cavolo sto facendo Mi serve una pala Sapete cosa ragazzi Con tutto questo ferro Io spawno un altro paio di TNT di ferro Così almeno c'ho dei golem Visto che i golem mi proteggono Andiamo Boom Boom Ok La crafting dove è finita Dai No Ragazzi Quando hai cento milioni di ferro Ma non hai della legna per una crafting Ok Facciamo subito la nostra crafting Oh no 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 Oh mamma mia E adesso creiamo la nostra TNT di diamante Va via Stupido imbecille Anzi Già che ci sono Creo anche la TNT di oro Bene E esiste anche quella di lapislazzolo per caso? Non ne ho la minima idea Proviamo No Vediamo quella di redstone No Ok quindi esiste soltanto dei materiali più preziosi Oro Ferro Diamante E nederite Non ci posso credere Una Pecora rosa Ma è rarissima la pecora rosa È arrivato il momento di far esplodere la TNT D'oro Poi quella di diamante la faccio vedere dopo Vediamo quella d'oro Via Ok Cosa uscirà fuori? Qua sono usciti gli Iron Golem Qua cosa esce? Oh Oh mio Dio No Non è possibile ragazzi Mele d'oro Infinite Blocchi d'oro Mele d'oro Ok Beh Ora sono letteralmente immortale Come fai a morire quando hai tutte queste mele d'oro? Fantastico E adesso TNT Di diamante Che cosa uscirà fuori? Oh mio Dio sono curiosissimo Oh Ma Quanti sono? Quanti diamanti sono? Blocchi su blocchi su blocchi Saranno mille diamanti? No di più Secondo me sono di più di mille Bene Sono ricco Sono ufficialmente ricco Ci facciamo adesso tutta quanta l'armatura Ovviamente Certo No 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 Questo assolutamente no Piuttosto Oh oh Ecco bravi Difendetemi bodyguard Piuttosto che farmi Nel metto in diamante ragazzi Li brucio E adesso vediamo Mi faccio anche un piccone in diamante Bene Ok Adesso Devo soltanto entrare nel nether Ma prima di entrare nel nether Voglio craftare un altro pochettino Di TNT Di ferro Pa 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 Riempiamoci le tasche Beh io direi che con tutto questo oro Non dovremmo avere assolutamente difficoltà A trovare gli enderai Ma Io sono qui per cercare la netherite Ho un'idea per la netherite Mi basterà scendere al livello diamante Allora facciamo così Per trovare tanta netherite Tanto sono pieno di TNT Facciamo esplodere la TNT Bene C'è un iron golem C'è nel C'è della netherite per caso qua? Non ci direbbe Continuiamo dritto Distruggi Dai 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 Distruggi tutto Ok c'è della lava Oh vedo la netherite Bene 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 Aia Ma si chi se ne frega Tanto sono pieno di mele d'oro Detrito antico Sei mio Vieni qua che mi servi E grazie Oh ce n'è un altro Ma si mi servi anche tu dai Me ne servono 5 ragazzi 5 lingottili netherite Ok allora Meno male ragazzi Che siamo pieni d'oro Bene Abbiamo 5 lingottili netherite Facciamo così Così Ed ecco qua La TNT Di netherite Eccola qua Vediamo cosa farà Rilascerà dei detriti antichi O qualche mostro speciale Tipo il Wither forse Un Wither amico Eeeh Non esplode? Oh mio dio Ok non pensavo sarebbe stato così forte l'esplosione Oh mio dio ragazzi A parte che è incendiato tutto Ma guardate Quanta Netherite c'è Cioè sono ricco Sono letteralmente Straricco Volete venire anche voi A prendere qualche blocco di netherite? Dai potete venire Prendetelo e portatelo nel vostro mondo E adesso non dovremmo fare altro Che trasformare tutto quanto In netherite Tanto ragazzi Siamo ricchi Ne abbiamo da vendere Fantastico direi Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi Lasciate un super mi piace Se così è stato Il vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Cosa pensi di fare nel mio mondo? Va via Questo è il mio mondo Ciao